Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland, io sono Andrea e questa è la rubrica di Tessiland News. Oggi parliamo di un argomento che ci avete chiesto in tante, in tante, in tante. Avevamo anche iniziato a prendere qualche piccolo pezzettino nei colori più basici, ma visto che Tessiland non si vuole far mancare mai nulla, abbiamo deciso di prendere ben 16 colori. E sicuramente li vedremo tutti nel dettaglio. Di cosa stiamo parlando? Delle mattonelle di ecopelle. Andiamo a vedere. E come ben vedete, tantissimi tantissimi colori, che adesso andiamo ad analizzarli tutti quanti uno per uno. Facciamo quindi la carrellata di tutti i colori. Il beige, bluet, bordeaux, cipria, cuoio, avorio, grigio, moro, blu, bianco, nevi, panna, rosso, tiffani, tortora e l'intramontabile nero. Come vedete, queste sono mattonelle di 7x7 con i fori da 0,3 mm. Di sicuro, con tutti questi colori, avrete da fare un gran bel lavoro. Un'altra cosa che ci tengo molto a dirvi è che nel momento in cui entrate sul sito www.tessiland.com potete guardare benissimo il dettaglio delle misure e anche del foro nella seconda fotografia. Un qualcosa che stiamo migliorando sempre di più. E come vedete, sempre più colori. E come abbiamo visto, sono ben 16 colori. C'è davvero, davvero da sbizzarrirsi in tutte le salse possibili e immaginabili. Da fare le cose un poco più scure, invernali, con i neri, i moro, i beige. Oppure andare su quel colore particolare, come magari il tiffani, il cipria. Che sicuramente sono prodotti che vi daranno quel tocco di luce in più. E con queste bellissime mattonelline, io come sempre, vi chiedo di azionare la campanella. Se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale, seguirci su tutti i social come Facebook, Pinterest, TikTok e guardarvi anche il blog di www.megliodimaglia.com La comunità sta sempre più crescendo e ormai le uncinettine ne sono davvero tante e speriamo sempre di esserne di più, perché questo è la nostra forza, il nostro benessere. Grazie mille come sempre e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!